Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio fare il pane con questo tipo di farina che ho comprato in un negozio di Firenze. Cercavo farine toscane, invece ho trovato una farina piemontese. Ho preso la farina di Enchir, farina di Enchir del molino marino. La farina di Enchir è praticamente un tipo di frumento del tipo monococco, del genere triticum monococum, ho studiato, anzi sto leggendo, chiamato anche piccolo farro o grano singolo. Questa farina ha un basso tenore di glutine, intorno al 7%, quindi è indicata anche per chi ha intolleranze. Naturalmente contiene tantissime proprietà benefiche, oltre ad avere poco glutine. È coltivata appunto nel Bresciano, è un marchio registrato, scusate, nel Piemonte e Bresciano. Questa che ho preso io è di Cuneo, della zona di Cuneo. Bene, voglio provare a fare il pane, vediamo che cosa riesco a fare. Bene, per fare questo pane ho preparato la mattina un prefermento, poi nel pomeriggio tardi sono andata ad impastare. Queste sono le etichette della farina che sto usando, questo è il prefermento che poi ho messo a lievitare 6-7 ore. Eccola qua, io ho deciso di usare anche 100 grammi di zero così per aiutare un pochino di più la lievitazione. Guardate il colore, la differenza dei colori della farina zero e di quella Enkir. Questo è il mio prefermento, non farò idrolisi, vado direttamente a mettere il prefermento nella ciotola della planetaria. Ne metterò 120 grammi. Sciolgo con l'acqua che ho preparato, il prefermento. Volevo dirvi che io amo sempre cambiare marche di farine per sperimentare, quindi non è che sto facendo pubblicità, le mie farine le pago, la pubblicità la faccio, certo per chi vede il mio video naturalmente quella è pubblicità, però i miei prodotti li pago tutti. Io penso che potevo anche provare a usare la farina in purezza, però per questa volta aggiungo questi 100 grammi di zero, vediamo come viene, poi al limite la prossima volta proverò a farlo in purezza con questa farina, anche se il glutine è poco, quindi ha poca forza, guardate la differenza di colori, miscelo un pochino, aggiungo acqua, poi vado a far girare tutto in planetaria, potete farlo direttamente in planetaria, perché così vi faccio vedere meglio quello che faccio sotto la planetaria, la ripresa non è bene. Ho messo mezzo cucchiaglino, un cucchiaglino scarso di malto, questo è il sale, un cucchiaglino, io ne metto sempre meno, un cucchiaglino sono circa 6 grammi, però se vi piace un pochino di più mettetene 10 grammi, ok. Faccio girare, mano a mano aggiungo l'acqua, così controllo anche se ci vuole tutta, sono 340 grammi, questo perché ho messo il prefermento che era un pochino liquido, quindi invece di 350 ne ho messi 340, vediamo quanta ne assorbe. Alla fine l'ho messa tutta, dopo 10 minuti all'incirca l'impasto è pronto, eccolo qua, come vedete è molto bello, lo vedo bello setoso, l'ho messo dentro una ciotola che ho oliato appena appena e qui faccio il primo giro di pieghe direttamente in ciotola, come vedete è molto abbastanza idratato, quindi l'acqua magari anche 330 bastava, però meglio così. Finito il primo giro faccio riposare l'impasto 30 minuti, almeno 30 minuti, copro, copro così con un coperchio, con un telo come volete e poi faccio il secondo giro di pieghe. Ultimo giro, dopodiché copro e lascio a lievitare, naturalmente qui ci vorranno molte più ore degli impasti normali, proprio perché contiene poco glutine, quindi copro e aspetto che raddoppi. Visto che non cresceva molto, era arrivata praticamente in serata, ho preferito mettere l'impasto in frigo, ho allungato ancora di più i tempi per cercare di farlo lievitare meglio. Ed eccolo qua, la mattina l'ho tirato fuori, l'ho tenuto un po' a temperatura ambiente ed ora proseguo per le pieghe. quindi diciamo che i tempi di lievitazione non sono come quelli di una farina normale, bisogna aspettare un pochino di più. A temperatura ambiente credo 6 ore, con 6 ore ce la facciamo. Io ho fatto questo passaggio soltanto perché non mi trovavo con i tempi, quindi ho rallentato un pochino i passaggi in frigo. Ok, facciamo questi due giri di pieghe, pieghe a tre. Un'amica del gruppo Nuvola mi ha anche indicato dove andare a prendere le farine, specialmente quelle toscane. Mi ha dato la via a tutto, ma sinceramente mi sono persa per Firenze. un mese anche il TomTom ci mandava da una strada all'altra e quindi mi sono fermata soltanto a queste che ho preso, anche perché stando con il treno non è che potevo prendere una valigia di pacchi di farina. Bene, dopo il secondo giro e dopo l'altro riposo di 30 minuti formo la pagnotta. Ho portato i lembi al centro, chiudo, è ancora appiccicoso come vedete questo è proprio il tipo di farina. Il farro è così. Chiudo bene. Mi aiuto anche un po' con una spolverata di farina e ho preparato il cestino, il mio cestino con il telo, eccolo qua. Ora posso mettere la semola, metto la pagnotta la metto come al solito la giro così, così poi la vado a ribaltare. Ok, questo cestino ci va anche un impasto più grande, come vedete è bello grande. Ed ora bisogna aspettare che lieviti ancora, però questa volta credo con due tre ore dovrebbe aumentare di volume. Copro con un telo e lo lascio a temperatura ambiente. Mi controllo la lievitazione, faccio la prova a dito, se ancora non è ora se torna subito su lo tengo ancora un pochino. Nel frattempo accendo il forno al massimo a 250. Quando è pronto lo ribalto su sulla carta forno, in questo modo, in modo che poi faccio scivolare sull'altra teglia. Faccio una croce e in forno. Dopo i primi 15 minuti comincio ad abbassare 220, poi ancora 200, fino alla fine in tutto 50 minuti, alla fine tengo 10 minuti a spiffero. Ed eccolo qua, come vedete si è anche aperto bene, di solito non mi succede, guardate questo come si è aperto, molto bello. Lo lascio raffreddare su una griglia. Ed eccolo qua, dentro è morbidissimo, il farro è così. Poi ho tagliato le fette, vedete, mano a mano che tagliavo, eccole qua. Io direi che è riuscito molto bene. La prossima proverò a farlo, a fare soltanto farina, farina in kir, senza la zero, per vedere come viene. Bene amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.